uno contro uno contro Borriello gli ha tolto il pallone in modo pulito in area da sottolineare Mariga se ne sta andando il 43esimo minuto del secondo tempo giù Cambiasso e ammunizione nei confronti di Perrotta e però Burdisso e arriva anche arriva Burdisso sul Cambiasso Maicon dice a Burdisso è meglio che te ne vai secondo Terroni di lì ha i loro rapporti nello spogliatorio perciò si capisce da questa e Milito va da Burdisso a tentare di calmarlo e Burdisso non ne vuol sapere sono inviberiti sulla panchina dell'Inter e ficando spalorditi dal comportamento di Burdisso si c'è ancora a battibecco tra Burdisso e Milito si è inserito anche un brasiliano ha detto a Burdisso meglio che te ne vai Nagatomo tra l'altro in questa maniera Burdisso che ora è bersaglio naturalmente degli improperi dei cittadini grazie a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti